Sicuramente per marzo del 2026 verrà inaugurato dalla nostra città un progetto veramente bellissimo, 2 milioni e 8 di lavoro, 4 milioni di quadro economico, prevede la rinascita di questa zona e un vero e proprio centro sportivo conservando la natura e l'impianto naturalistico per le prescrizioni avute dalla soprintendenza. Quindi c'è grande soddisfazione, grande fermento in città, un gioiello del genere con il recupero della nostra storia, con il recupero degli impianti sportivi che qua vediamo è immerso nella natura ma sul lago e quindi con al centro il canottaggio, la vela, quindi ridare dignità al nostro lago e a questo vi aggiungo anche che abbiamo avuto un finanziamento della regione campania di 10 milioni di euro che deve essere operativo, mi auguro, nei prossimi mesi, proprio per far rinascere il lago da un lato e noi stiamo dando dignità alle sponde del lago Patria, col parco archeologico di Liternum dall'altro lato e con il centro di Miero qui a via Spasaro Dattico.